Oggi siamo qui per diventare la nostra professione, che è in pericolo. Il nostro logistico è privato, è un buon e nobio studiante in formazione. E quindi, in fine, c'è tutta la professione che è minacciata. Per un paro, abbiamo più che falconare in Bastia, a tre o quattro, un stagio, un servizio, e abbiamo messo in cadra come la ZDV.